Gestimmo la sezione universitaria del PC, il circolo giovanile, c'era Sorrosa con il quale ho fatto grandi comizi nel Lazio, un personaggio bellissimo, il professore Bernardini, bellissimo intellettuale. Qui ho avuto l'onore di conoscere un mio amico eterno che si chiama Massimo De Meo, che è sempre legato al mio fianco, che leggemmo al Consiglio di Amministrazione come sinistra, ed era l'altro giovane leader di questa sinistra democratica. E lì Antonio facemmo una cosa, che per sconviggere le Brigate Rosse e gli autonomi di Via dei Volci ci inventammo le leghe dei disoccupati CGL Cislewil, un movimento di massa voluto bene anche da Lama, da Trentin, che stava passando dalla fiuma dai metalmeccanici alla Confederazione. Ci inventammo le leghe dei disoccupati CGL Cislewil che esplosero in tutta Italia, in Campania e furono dirette da Maddalena Tolanti che poi è diventata una buona giornalista, in Abruzzo da un ragazzo che poi è diventato diputato di sinistra bravo, in Emilia Romagna Bardi che fu un buon sindacalista. Una cosa bella, che ci permise di sconviggere le Brigate Rosse e gli autogli squadristi di sinistra nell'università. Ci abbiamo sempre combattuto, sempre sul terreno proprio concreto, sul campo di battaglia. Io in quegli anni ho visto uccidere, ho sentito il colpo di pistola per cui hanno ucciso Bachelet, tra la facoltà di giurisprudenza dove eravamo a fare un seminario sul diritto e la facoltà di scienze politiche. Ho visto questo uomo grande come Cristo, con gli occhiali sfondati, in questo punto del corridoio tra la facoltà di scienze politiche e l'università. Cosa voglio dire Antonio? Il dolore l'abbiamo affrontato, ma siamo stati anche in prima linea nella parte buona, generosi, folli, magari antipotere, forse troppo, perché il potere va anche combattuto ma va costruito anche il potere nuovo. Come posso dire? Bisogna avere anche una capacità costruenz, oltre a quella destruenz. Comunque questa battaglia l'abbiamo fatto. Io mi ricordo che allora era responsabile dell'università, a chi l'occhietto scrisse è nato il nuovo movimento, quando a novembre del 1977 facemmo una manifestazione di 20-30 mila giovani proprio per sconfiggere la versione di sinistra in quel caso. Ecco, questo fu un primo movimento nazionale e meridionale, fu un primo allenamento. Io tornai in qualche modo al sud, come figlio del sud. Cioè i disoccupati stanno ancora oggi al sud, purtroppo. Dopodiché, per la mia vocazione terrena, concreto, non mi ritrovavo bene nei partiti che erano già in crisi, cominciavano ad andare in crisi alla fine degli anni 70, per cui, dopo l'esperienza delle leghe dei disoccupati, incontrai per puro caso Bruno Trentino, grandissimo sindacalista, è un mio maestro, un papà, che mi disse, Peppino tu sei un sindacalista nato, devi diventare sindacalista. Io volevo fare lo studioso, scrivere i libri, il ricercatore, volevo fare un'altra cosa. E mi ritrovai, caro Antonio, così, un po' come quadruccio giovane della Cigelle, nel Dipartimento Lavoro Nazionale, poi nella Cigelle di Roma, che aveva la sede un po' sotto Santa Maria Maggiore, io avevo la casa con i miei amici a Piazza Dante, dove c'era una comune di giovani, famosa a quei tempi, così, insomma, comunque gioiosa, in cui studiavamo, lottavamo e lavoravamo sempre, sempre queste tre cose. Studiare, lottare e lavorare. Lottare, studiare e lavorare. Abbiamo fatto sempre questi tre mestieri belli e pesanti. E a quel punto mi ritrovai giovane dirigente della Camera del Lavoro di Roma, ai tempi di grandi dirigenti, c'erano grandi dirigenti degli edili, dei metalmeccanici, mi ricordo le lotte della Voxon, della Coca-Cola, degli edili del grande Umberto Cerri, che era un segretario gigantesco, bellissimo, c'era Umberto Santino come segretario regionale, e lì mi occupai di Stato, poi mi cominciai a occupare di pubblica amministrazione, sono stato giovane segretario della funzione pubblica CGL, e iniziamo all'inizio degli anni Ottanta una battaglia straordinaria per la legalità a Roma. Queste lotte portarono alla caduta due volte dei sindaci andreottiani. Uno di questi sindaci, adesso non ricordo neanche il nome, era stato Ministro del Turismo, non mi ricordo il nome. Antonio, ti dico... Da Pedrucci, no? No, 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 era un altro, era stato Ministro del Turismo, adesso non mi ricordo. Insomma, questo movimento sindacale, come fu concepito? Non l'elite burocratica. Allora, abbiamo preso il Comune di Roma, abbiamo diviso il sindacato nelle 20 circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni abbiamo costruito la sezione dei vigili urbani, la sezione dei giardinieri, la sezione delle maestre d'asilo, la sezione dei pubblici impiegati, cioè divenne un movimento di massa democratico e fu un movimento dei diritti, non di un pubblico impiego inteso come la corporazione terribile, un movimento dei diritti e delle regole, un movimento per la legalità, perché il tema della legalità ce lo portavamo nel cuore come poveri e come contadini, mi segue, la giustizia è un'istanza che alcuni di noi hanno nel cuore, non siamo degli estremisti giustizialisti, abbiamo un'istanza di giustizia antica che ci è naturale, vedi qui c'è anche qualche connessione tra me e il mio compaesano di pietra da questo punto di vista, lo dico con rispetto nelle diversità, abbiamo avuto storie diverse, il mio rispetto alla sua, ecco, e poi a questo punto la Repubblica cominciò a perdersi, tra il 79, le strage in Sicilia, la cosa mi cominciò ad inquietare, la P2, c'è l'attacco della mafia, la mafia, la P2 e la massoneria, e allora, tanto, come dire, questa cosa mi addolorò, che quando uscirono le prime notizie sull'Ap2, ho scritto un primo libretto della casa editrice Piccoli Data News sull'Ap2 nella pubblica amministrazione, che fu presentato a Montecitorio con il deputato in allora, ex magistrato che divenne poi presidente della Camera, era violante, e ce l'ho ancora, questo te lo devo far vedere, ecco, per dire, vedi, Stato, pubblica amministrazione, gli uffici centrali di Roma, l'insediamento della P2, quindi un altro tema ossessivo, lo Stato, la pubblica amministrazione, lo Stato centralista, fascista, savoiardo, con l'età comincia a crescere, e questo fu un altro ciclo, ecco, dopodiché avvenne dentro di me una piccola lacerazione, nell'Ap2, quando seppi dell'assassino di Dalla Chiesa e lessi il libro del suo figliolo, ecco, questo libro mi colpì, mi fece male, e sentì il richiamo del Sud, dico non posso rimanere a Roma così, anche era una vita anche brillante, attiva, bellissima, io ho voluto bene, sono stato voluto bene, sono un uomo sempre pieno di fatica, di dolore, ma anche appassionato, felice anche, e ho cominciato a ripensare ossessivamente al Sud, frattanto ho cominciato a libro, qualche libro di storia un po' diverso, poi ci tornerò, ecco, perché la smolta fu in tarda età, quasi direi, con i libri di Ciano, ecco, ho fatto sto guai, ho fatto sto guai, è un fratello che insegna un altro fratello, anche io filo di contadini, dopo di che io mi cominciai a accorgere che i partiti diventavano apparati, stavo morendo anche la sinistra, quella popolare, quelle delle sezioni del popolo, quelle sezioni della CGL piena di popolo, delle sezioni della CGL piena di popolo, le antiche sezioni anche del PSI o quelle unitarie, ma anche sezioni della DC nei paesi piccoli, bellissime. Era una vita democraticamente parlando, una vita vera, diciamo, le sezioni si riempivano i sindacati. A metà degli onnattanti io cominciai però a accorgere che andavi che stavo morendo, e anche il mondo sindacale, questo è drammatico.